Quanto deve guadagnare la tua startup prima della prossima raccolta fondi? Qual è il tasso di crescita medio per un'azienda in fase di serie 6? Oggi rispondiamo a queste e tante altre domande che chiunque sia founder di una startup deve assolutamente farsi. Il SaaS Funding Napkin, l'immagine che vedete a schermo, spiega nelle dimensioni di un tovagliolo, napkin per l'appunto, quali sono i guadagni, i tassi di crescita ed il product market fit che una startup che fa software as a service, quindi un SaaS, dovrebbe avere prima di raccogliere un certo numero di fondi. Questo documento raccoglie benchmark raccolti direttamente da investitori e ci aiuta a capire meglio dove siamo posizionati rispetto al resto del mercato. È andato virale nel 2016 ma è stata rilasciata una versione aggiornata nel 2022, cosa molto utile non solo perché il mercato è cambiato tantissimo negli ultimi sei anni ma anche perché chiunque di voi segue il mercato azionario lo saprà c'è stato un cambiamento a livello economico molto importante negli ultimi mesi. Quindi è molto molto utile, specie al giorno d'oggi, vedere quali sono i benchmark per tutte le altre aziende intorno a noi visto che le valutazioni sono scese a dismisura da un giorno all'altro, magari oggi si stanno un po' riprendendo, insomma è molto difficile navigare la situazione attuale, specie per i founder che devono raccogliere fondi. Questa ricerca prende in considerazione diretta solo 100 aziende, quindi sicuramente non è il sacro gral, però sia per esperienza personale, sia vedendo il feedback di tante altre persone posso dirvi che i numeri riportati sono abbastanza in linea con quelli che si vedono attraverso tutto il mercato. Partiamo quindi a analizzare i vari requisiti per ogni stage del funding. Il primo è quello del pre-seed, chiaramente in pre-seed le aziende hanno poco più che un'idea magari un po' di product market fit ma la cosa principale che si va a guardare è il team che c'è dietro, quindi i founder. Hanno fatto cose notevoli in passato, sono le persone giuste per lavorare su questa idea, magari hanno un insight che in pochi hanno, hanno un'esperienza che in pochi possono vantare, quindi sono particolarmente adatti alla sfida che li attende. Sono determinati, insomma queste sono tutte cose abbastanza intangibili, che però sono fondamentali per la decisione di un investitore quando si è così all'inizio del percorso. Un'altra cosa intangibile è quella di poter dimostrare che la vostra azienda tra 5-10 anni varrà almeno più di 100 milioni, se non appunto oltre il miliardo. Questo è un elemento fondamentale per un investitore di startup. Se volete approfondire il come ed il perché, andate a vedere uno dei video recenti su come funziona effettivamente l'investimento di startup, come fanno gli investitori a fare soldi nonostante il 90% delle startup fallisca. Poi, quando si passa invece ai vantaggi, non solo agli obblighi che dovete avere per raccogliere questi fondi, si va a vedere che l'aspettativa media è quella di raccogliere tra l'1 e 2 milioni di dollari in pre-seed con valutazioni che vanno dai 3 ai 12 milioni di dollari. Analizziamo ora la fase seed. Se siete in seed, chiaramente ci si comincia ad aspettare delle revenue, ci si comincia ad aspettare un po' di storia della vostra azienda, quindi si possono fare delle analisi un po' più dettagliate. Difficilmente le aziende in seed si trovano sopra al milione di ARR, quindi entrate annuali ricorrenti, e l'altra cosa che si fa a guardare, si comincia a guardare, è il tasso di crescita. Quindi, se già in pre-seed voi cominciate ad avere delle revenue abbastanza rilevanti da poter fare questo tipo di analisi, gli investitori si aspetteranno comunque una crescita, un tasso di crescita, che sia del 100% o anche 200% anno, quindi vogliono vedere quelle revenue duplicare o triplicare anno dopo anno, anche in queste fasi iniziali. Già in seed si comincia ad aumentare la valutazione delle aziende, quindi la valutazione media è tra i 5 e i 15 milioni, mentre il valore raccolto è dall'1 ai 4 milioni di dollari. Forse uno degli aspetti più importanti poi è quello del vostro prodotto e come viene utilizzato. Se riuscite a dimostrare di avere, anche i pochi però, insomma, degli utenti che tutti i giorni o tutte le settimane usano il vostro prodotto, che ci si trovano bene, che sono disposti magari anche a metterci la faccia, per conto vostro, a parlare con gli investitori, a dimostrare, a mettere sul vostro sito anche dei testimonial, beh, quello è un ottimo segnale perché chiaramente l'investitore non sarà necessariamente il vostro target e ha bisogno di sentire, di parlare con qualcuno che possa garantirgli che quel prodotto risolve un problema abbastanza grande, abbastanza importante, per cui sia disposti a pagare. Per quanto riguarda i founder, si comincia a cercare la loro capacità di iterare sul prodotto, quindi magari gli investitori cominceranno a notare il fatto che il vostro prodotto è migliorato in maniera notevole negli ultimi mesi, negli ultimi anni, riuscite a creare nuove feature che siano feature importanti, non gimmick, oppure cominceranno a cercare di capire se siete riusciti a vendere il vostro prodotto bene. Avete la grinta che serve anche quando non siete dei venditori a effettivamente spingere il vostro prodotto e riuscire a farlo comprare. Questo diventa un fattore molto importante e poi continuazione di un elemento anche degli step precedenti che continuerà poi per tutto il resto della nostra disamina è sono in grado di portare questo prodotto a una valutazione alta, hanno un go to market che ha senso, non deve essere preciso definito, però che abbia senso, hanno un'idea di effettivamente come distribuire questo prodotto una volta che cominceranno a scalare, cioè come useranno i soldi che gli do una volta che li riceveranno. Questo piano deve esserci, anche se magari poi cambierà col tempo, come è normale che sia, dovete dimostrare sicurezza da questo punto di vista, altrimenti metterete tanti dubbi, tanti tardi in testa al vostro investitore e quando magari siano due aziende simili, queste sono delle cose che fanno la differenza. Cominciamo a fare sul serio con l'analisi del Series A. Series A si comincia già a raccogliere tra i 6 e i 18 milioni, mentre la valutazione è tra i 25 e i 75 milioni. L'ARR va dal mezzo milione fino magari a 2 milioni e mezzo, questo è il range che loro hanno identificato, e di nuovo la crescita annua deve essere doppia o tripla, questo purtroppo per le startup è fondamentale, è una spada di Damocle che probabilmente non ci toglieremo mai. Comincia a diventare importante anche il team intorno a voi, quindi ok, siete dei founder forti, siete riusciti a raccogliere soldi precedentemente, ma adesso non siete più abbastanza per tirare avanti la carretta, quindi siete riusciti ad assumere magari delle persone senior particolarmente brave, un VP di engineering, un VP di sales, una persona, magari non necessariamente un VP, ma anche un senior manager che abbia fatto anche lui cose fighe in passato e che possa dimostrare di essere un elemento fondamentale per il vostro team. Ecco, questo già diventa un aspetto, un aspetto importante per avere credibilità. Si comincia a pensare anche ai competitor, quindi rispetto ai competitor che ci sono sul mercato, cos'è che fate di diverso? È difficile oppure è facile riuscire a copiare le vostre feature principali? Come riuscite a differenziarvi in maniera importante, perché altrimenti chiunque può arrivare sul mercato e prendervi il pranzo, no? Quindi queste domande dovete assolutamente avere una risposta certa, pronta, preparata. Altri aspetti chiaramente sono legati al market fit, quindi deve essere super chiaro che il vostro prodotto ha senso, che le persone vogliono comprarlo, che risolve un problema importante e che il vostro prodotto è amato dagli utenti. In Serie 6 è quasi sempre standard che gli investitori chiedano di parlare con alcuni dei vostri utenti, specie se magari avete dei clienti particolarmente grandi, importanti, non lo so, facciamo finta Nike. A quel punto, se riuscite a far parlare la persona all'interno di Nike che lavora con il vostro prodotto, con gli investitori, avrete sicuramente un vantaggio e un piede in avanti. Non dare nessun tipo di referenza può far venire qualche dubbio e come abbiamo detto prima, i dubbi sono sempre un problema in questo tipo di relazioni. Un altro aspetto importante è quello che, insomma, deve essere chiaro, il vostro percorso di crescita, adesso ancora più che con il seed. Idealmente avete anche un modello che potete replicare all'infinito. Una cosa che era molto comune anni fa, per esempio, era dire, ok, noi in stato di seed siamo riusciti a crescere del 100-200% anno dopo anno grazie a Facebook Ads oppure Google Ads. Adesso questo tipo di risposta non è altrettanto apprezzata perché gli investitori sanno e hanno capito che quei canali diventano più costosi anno dopo anno, però facciamo finta che siate riusciti a creare un tool dove le persone creano Miro, ok? Miro è un servizio di lavagna digitale, mettiamola così, sono riusciti a creare un loop per cui le persone creano la loro lavagna digitale, ci scrivono le cose che devono scrivere, invitano i loro colleghi e poi i colleghi continuano a usare il prodotto. Quindi c'è una sorta di viralità interna e questa viralità può essere creata, può essere incentivata, può essere ingegnerizzata, ok? E nel momento in cui riuscite a dimostrare di avere questo aspetto all'interno del vostro prodotto gli investitori saranno molto più contenti e molto più sicuri di investire in voi. Passiamo all'ultimo step di questo documento, cioè Series B. Series B potete già cominciare a pensare di raccogliere tra i 10 e i 40 milioni di dollari e la vostra valutazione sarà dai 60 ai 180. Il minimo dei guadagni a questo punto è intorno ai 3 milioni di dollari, sempre guadagni annuali ricorrenti, quindi ARR, e c'è la solita aspettativa di raddoppiare e triplicare l'ARR. In termini di prospettiva c'è un elemento interessante che viene usato dalla persona che ha scritto questo documento, cioè dovete essere in grado di poter decubblicare le vostre attuali revenue ricorrenti. È un framework a cui non avevo mai pensato, però è interessante. Fondamentalmente può voler dire decubblicare anche la vostra valutazione, anche se non è esattamente così, perché poi, diciamo, i moltiplicatori scendono con l'aumentare delle ARR di solito e scende anche il vostro tasso di crescita, che è una delle cose che impatta di più la valutazione di una startup. Una startup che cresce triplica o quadruplica ogni anno, le proprie revenue sarà molto più apprezzate rispetto a una che invece magari aumenta del 50% o 75%. Però, tralasciando questi discorsi, altre cose, chiaramente, dovete aver continuato a dimostrare la vostra capacità nelle assunzioni. Quindi magari adesso avete un paio di figure chiave che sono molto senior, che guidano la vostra azienda insieme a voi, devono essere le persone giuste. e un'altra cosa lato marketing è che riuscite ad acquisire clienti con un CAC Payback Time, quindi ricoprendo il costo di acquisizione del cliente in 15 mesi di pagamento del servizio. La trovo una cifra abbastanza alta in realtà, però penso che questa sia una congiunzione di vari fattori del mercato. Cioè, da una parte, qualche mese fa, direi, diciamo, l'anno scorso, nel 2021, il tasso, il costo degli ad è salito in maniera vertiginosa, ancora più del solito, almeno secondo esperienza personale. Quindi questo ha aumentato tutti i benchmark delle aziende e poi adesso ci si mette anche questa situazione di depressione economica che sicuramente non aiuta. Un altro aspetto importante, comincia a diventare la vostra net revenue retention. Riuscite a guadagnare di più questo mese rispetto al mese precedente dagli stessi utenti, cioè escludendo tutti i nuovi clienti che vengono in questo mese, nel mese di settembre 2022. Voi avreste guadagnato di più o di meno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che avete pochissimi utenti che sono vostri clienti e che lasciano il prodotto, che smettono di pagarvi e allo stesso tempo avete alcuni clienti, magari anche molti clienti, che ogni mese vi pagano di più, magari perché decidono di aumentare il piano su cui si trovano, no? Passano dal piano base al piano avanzato. Oppure se avete un diverso tipo di pricing, magari si basa sull'utilizzo del prodotto e quindi invece di utilizzarlo 100 volte lo usano 1000 volte, quindi vi pagano 10 volte di più. Questa metrica è fondamentale perché, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni dollaro che voi spenderete in marketing sarà molto più efficiente e quindi gli investitori vogliono riuscire a vedere questo tipo di prospettiva. E poi l'ultimo punto è che dovete essere in grado di vendere rapidamente, quindi accorciate il vostro sales life cycle. Se vi servono 3 mesi per vendere un prodotto che costa 1000 dollari, chiaramente c'è un problema, ma difficilmente riuscirete a scalare la vostra organizzazione da un punto di vista del team di vendita, dovete riuscire a rimpicciolire un po' di più questo percorso. Come fate? Ci sono vari modi, poi magari un giorno ci faremo un video anche se non sono un esperto, ma qualche esperienza diretta l'ho avuta. Bene, qui si ferma il fazzoletto. Prima di chiudere ci tengo a ricordarvi che questi sono benchmark, queste sono medie, quindi non vuol dire che voi dovete assolutamente rientrare in questi parametri. Come forse avevo menzionato anche prima, per esempio il tasso di crescita è un fattore che ha un peso all'interno della valutazione dell'azienda enorme rispetto magari ad altri fattori come possono essere le persone che avete assunto. Ogni cosa pesa in maniera diversa. La stessa azienda con le stesse metriche che però cresce di 5 volte anno dopo anno rispetto a una che cresce 2 volte anno dopo anno con magari 3-4 anni di storia, avrà una valutazione astronomica rispetto all'ultima. perché chiaramente la traiettoria di crescita è molto diversa e molto più grande. Diciamo, qui finisce il lavoro fatto da Christophe Hans che ha creato questo fazzoletto e inizia il vostro. Lo scopo di questo video è quello di darvi delle indicazioni, dei paletti su altre aziende che sono arrivate al punto dove volete arrivare voi hanno fatto questo e ci sono arrivate in questo modo. Magari vi siete dimenticati alcuni pezzettini per strada, pensateci e appunto magari lavorateci se credete che sia importante per aumentare la vostra credibilità, le vostre possibilità di fronte a degli investitori. Oggi non vi do nessuna call to action da youtuber perché? Perché voglio assolutamente invitarvi invece a supportare chi ha creato questo SaaS napkin, funding napkin, perché appunto senza di lui questo video non sarebbe stato possibile, ci ha aiutato moltissimo a raccogliere tutti questi dati del mondo del software as a service, quindi vi invito ad andare nel link in descrizione verso l'articolo medium che appunto è stato scritto, potete applaudire che è un po' la forma di like su medium, potete insomma condividere questo articolo con i vostri amici, colleghi, assolutamente lo trovo una cosa utilissima, quindi concentratevi su di lui, non iscrivete a me oggi, lo farete al prossimo video che magari vi verrà suggerito. Noi ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao ciao!